Imra progetta e fornisce ascensori, montacarichi, elevatori in genere, impianti e ausili per diversamente abili con un servizio di assistenza 24 ore su 24. E' tornata a spalancare i battenti lunedì 18 maggio l'isola pulita di Corso Palatucci, che nei giorni d'apertura previsti in questa prima settimana è stata assaltata da un gran numero di cittadini. Così, per venire incontro alle esigenze dell'utenza, la metaglia servizi ha reso noto che nei prossimi giorni, in via straordinaria, il centro di raccolta Isola Pulita funzionerà con un calendario che oltre ad oggi sabato 23 maggio dalle 7 alle 14 prevede l'apertura nella medesima fascia oraria anche nelle giornate di lunedì 25 e martedì 26 maggio. In caso di affluenza elevata, sarà consentito l'accesso per il conferimento al centro di raccolta solo agli utenti che risulteranno all'interno del cancello della struttura un'ora prima dell'orario fissato per la chiusura. Per accedere è inoltre obbligatorio l'utilizzo di guanti e mascherina. E' stato precisato inoltre che per quanto riguarda l'olio esausto, la consegna dello stesso dovrà venire esclusivamente in contenitori senza resa. Per la riapertura del centro di raccolta di via Ugo Foscolo, invece, si attende il trasferimento presso i capannoni dell'ex Cofima dei rifiuti prodotti dai soggetti positivi al Covid-19 omessi in quarantena.